In questa puntata di Night and Day lo spazio riservato a Nice, nuovi impianti sportivi, si concentra sulla piscina di Belluno. La struttura di Lambioe infatti ha preparato l'orario estivo per tutti coloro che vogliono accedere liberamente alla struttura e poi ovviamente una carrellata di corsi davvero imperdibili per riempire la vostra estate, per continuare a praticare sport che è sinonimo di salute e benessere. Iniziamo allora dalla videata che presenta Babylandia, che va dai 4 ai 36 mesi. Quindi i bambini che hanno questa fascia di età possono accedere con i loro genitori in piscina e iniziare il primo approccio con l'acqua. Vi è poi il nuoto accelerato per bambini dai 6 ai 13 anni. I prossimi corsi, quelli di immediata scadenza, iniziano il 13 luglio, terminano il 24 e si svilupperanno in 8 lezioni. Ma in questa videata potete vedere anche le successive date, se in questo momento non potete accedere per qualche motivo alla struttura di Lambioi. Vi sono poi i corsi accelerati di pallannuoto. Anche qui la prossima data per l'iscrizione è 13 luglio, 24 luglio, anche qui 8 lezioni. Vi è poi il nuoto per adulti, che si sviluppa ogni lunedì e giovedì in 3 fasce mattutine a vostra scelta, o il martedì e venerdì in 2 fasce mattutine. Altrimenti potete iscrivervi ai corsi serali, ai corsi di perfezionamento e a corsi privati, che sono a disposizione anche per bambini, quindi non solo per adulti. Vi è poi un altro corso riservato alle donne, quello per gestanti, che possono accedere alla struttura di Lambioi ogni lunedì e giovedì alle ore 12 o alle ore 18. Questi orari, ma soprattutto i dettagli di ogni scadenza di inizio corso, potete trovarli all'indirizzo www.piscinadibelluno.it. Potete richiedere informazioni a info.nissbl.it, allo 0437 94 04 88, o più semplicemente allo sportello della piscina di Belluno a Lambioi, perché ricordatevi che l'estate 2009, tra salute, benessere e sport, è targato NIS.